Volevo fare un video veloce un po' di aggiornarci sulla situazione qua e capire un po' cos'è la NATO e perché dicevo in un altro parlato. Allora intanto vediamo la copertina qua come il nuovo Hitler la storia si ripete no? Questo è il nuovo uomo cattivo da combattere che però sta mandando avanti il loro piano diciamo facendo quello che sta facendo. Putin sta distruggendo i sogni dell'Europa, il ritorno della storia. La storia si ripete perché noi siamo coglioni purtroppo e loro usano sempre la stessa tecnica dell'uomo cattivo che fa quello che non dovrebbe fare per poi giustificare la loro posizione e togliersci più libertà. Nel loro caso vogliono unire tutti questi popoli che secondo loro un po' come le due torri gemelle che sono crollate due e poi è uscita fuori una. Quello è un concetto per loro importante cioè dalle due fazioni che loro creano si è infatti il World Trade Center è poi diventato One World Trade Center. Quindi un po' di immagini di effetto per terrorizzare perché adesso è come in ogni caos come in ogni evento che loro creano ci deve stare prima la botta iniziale e quindi lo stress. Nel caso del cogliona vi ci sono stati i camion in fila per dire no? ecco quella roba là. Adesso nella guerra vedremo i morti ci saranno i morti fra poco e già ci sono mi è piaciuto particolarmente questo articolo qua ma che cosa ci impedisce di avere un esercito comune una politica estra comune una politica economica comune con un solo ministro dell'economia europeo qui vediamo la ragione che te lo dice chiaramente che è pro nuovo ordine mondiale perché quando vedi ogni volta che vedi la bandiera la bandiera qua dell'europa è un nuovo ordine mondiale. Poi forza occidente mettendo dei giovani zombie giovani zombie mascherati e telefonizzati col telefono a fare selfie e fare cazzate e questi sono i giovani i morti che loro dicono forza occidente questi insano che cazzo fanno sono morti è la stella della nato qua dietro questo è fondamentale la nato è puro un ordine mondiale perché vediamo quest'articolo qua vediamo se non lo fa zoomare allora la nato torna alla sua funzione rinasce rinasce una parola chiave perché la fenice rinasce loro infatti con le torre gemelle da due sono rinate in uno che poi anche il giglio cioè questo essere bravi a gestire queste due forze per poi arrivare alla alla sintesi di questo tesi antitesi per arrivare alla sintesi che vogliono loro le due forze loro le creavano sempre loro sono facce della stessa medaglia come Putin e l'Europa le fazioni sono sempre create da loro quindi sta rinascendo la nato adesso e si deve attivare perché l'incubo si è risvegliato ciascun aderente sarà in guerra cioè chiunque fa parte della nato vuoi non vuoi tu devi andare a fare il bullo contro una nazione che tu non sai nemmeno che in teoria non ti ha fatto niente però siccome serve al teatro il cattivone che stai invadendo tu devi difendere questa nazione che non avresti nessun non avrebbe nessun senso e semmai qualche nazione in Europa per dire che non fa parte della nato o può anche se fa parte della nato si mette in testa che vuole essere indipendente loro ti dicono che tu sei cattivo e tutte le altre nazioni vogliono volenti o nolenti devono andare ad attaccare questa nazione non è il caso nel nostro mondo perché tutte le nazioni sono già allineate con il nuovo ordine mondiale quindi siamo già finiti ragazzi allora ciascun aderente cioè una nazione aderente alla nato sarà in guerra se un altro sarà aggredito e l'aggressione lo creano loro ok quindi un criminale sta falsificando la storia per riconquistare un impero userà l'ucraina per aggredire oltre va stroncato abbiamo la forza per riuscirci consiste nell'unità uniti perché gli aggrediti siamo noi ancora un po' di paure per le pecore se gli si lascerà l'ucraina userà la resistenza interna come scusa per accusare di supporti esterni chiedendo aree di sicurezza sempre più grandi e sempre più a ovest polonia ungaria repubbliche baltiche romania sono nostro territorio il nostro è loro il nuovo ordine mondiale e questo insomma per capire un po' la nato cosa vuole fare cioè togliere potenza a una nazione e darla a questo alla loro agenda che è il nuovo ordine mondiale c'è un unico governo mondiale alla fine dove tu non conti un cazzo mi sono piaciuti questi slogan per la strada che ha messo Putin in Russia a San Pietroburgo e a Mosca che dicono che praticamente non avevamo altra opzione abbiamo dovuto farlo firmato vivi che è bello perché in in russo si scrive la b si scrive la v si scrive b quindi b b fa molto big brother Putin e poi hashtag noi siamo uniti qui altre varianti e poi c'è anche questa variante un po' più lunga che dice che insomma noi siamo con la patria con dio col sole cuore con l'amore stiamo facendo tutto questo perché dobbiamo farlo e i pupazzi vanno in strada a protestare con la muserwola dicendo Putin è un nazista aiutateci quindi vogliamo che l'europa la nato ci aiuti proprio più zombie non si può proprio e adesso come per dire durante l'invasione invasione quando hanno fatto la guerra in Jugoslavia stavano glorificando i terroristi dell'Uczek l'esercito per la liberazione del Kosovo la stessa cosa adesso stanno glorificando questi qua di Kiev che stanno resistendo all'invasione quando loro devono creare morti ragazzi danno le armi alla popolazione perché l'hanno fatto che in Albania e noi siamo dovuti scappare perché la gente girava armata così volevano che ci fossero i morti così la gente scappava dall'Albania veniva qua e allo stesso modo adesso in Kiev siccome dovete accogliere un po' di milioni di persone pecorelle qua e ci devono essere un po' di morti altrimenti non funziona la cosa e quindi stanno glorificando gli stanno dando energia a armi e tutto a questi poveri zombie qua ecco che bella ciao guarda i ridenti non sanno che stanno per essere uccisi e usati come è sempre stato usato l'essere umano da sempre da chi ha più cervello di lui quindi armi ai civili c'è scritto qua vediamo se tante volte me la fa continuare questa presentazione ecco fucili a 18.000 giovani partigiani li chiamano partigiani poi se tu magari vuoi armarti per un nemico interno come dovrebbe essere insomma che è più vicino alla realtà diciamo questo nemico non è mai quello per la carro armata e tutto quanto ma è quello interno in giacca e cravatta insomma che tu ma in realtà quello in giacca e cravatta chi fa veramente il male ragazzi siamo noi quelli che lavorando tutti i giorni in divisa per dire o in ospedale o per strada ti tolgono la vita ragazzi però noi vogliamo vedere il cattivo in quelli in alto ma in realtà siamo noi zombie che facciamo il gioco loro questi zombie qua non hanno idea che stanno lavorando per mandare avanti il nuovo ordine loro ridono sono dei coglioncelli totali gli hanno dato delle armi il kalashnik si sentono potenti le relazioni di draghi mattarella l'arma dell'unità per tornare per non tornare ecco io me ne scordo sempre perché ho cambiato un po' le cose qua se sbaglio coi insomma la solide pipponi qua draghi mattarella l'arma dell'unità per non tornare agli anni più bui ok ci sono riuscito un po' di morti ci saranno perché servono al teatro per mandare avanti poi quello che loro vogliono cioè un'unione è una togliere potere agli stati che ormai non esistono nemmeno l'Ucraina conti sul Piemonte che riceverà un sacco di profughi di guerra lo stesso si sta mobilitando anche l'Abruzzo dove mi trovo io adesso che in questo momento sta nevicando accogliamo quindi se loro ci vanno non capiscono che serve tutto a a mandare avanti questo piano perché loro chiederanno l'intervento della Nato fate qualcosa liberate e far accettare che la Nato che è una è una entità internazionale faccia un po' il bullo della situazione in ogni in ogni situazione che loro stessi creano e come si sta dicendo fate ciò che volete di noi ma gli zombie che scendono qua in piazza non lo sanno perché non hanno il cervello e da bestie saranno trattate saranno i prossimi profughi ragazzi i prossimi profughi qua che gireranno così sarete voi questa merda si sposterà pure qua a un certo punto però per il momento non si sposta perché siete talmente zombie andate talmente senza nessun contrasto con i loro piani che non hanno bisogno di fare guerra in altri stati per dire qui che sono un po' più vivi diciamo e devono fare un po' di guerra perché la gente è un po' più viva diciamo ma qui voi siete già morti Urtrop non c'hanno bisogno di fare guerra voi siete già morti ecco qui si ripresenta la foto storica col Tankman anche qui c'è un c'è l'uomo singolo qua che cerca di bloccare questa linea di carro armati magari photoshopato qua comunque si c'è l'eroe devono far vedere insomma dobbiamo intervenire perché il Kyiv sta soffrendo questa gente è eroica lone hero takes on armored column ecco l'eroe da solo cerca di fermare i carro armati un po' di morti come ho detto quindi è il presidente dell'Ucraina che disse ai cittadini potete prendere l'armi pensate potete prendere l'armi perché siete zombie ovviamente fate il cioè invece di puntare l'arma tipo da un'altra parte per dire lo puntano dove non dovrebbero che poi l'arma l'uomo dovrebbe puntarlo a se stesso perché è coglione purtroppo però lasciamo perdere altre ultime cose al volo qua che bellissimo guarda il suo cervello è il carro armato e l'occhio è l'aereo il caccia ah cattivo Putin cattivo altre? ah Vlad the Impaler però l'hanno sostituito con Vlad the Invader cioè Vlad l'impalatore cioè Dracula insomma e questa qua che i carro armati che calpestano che vanno sopra la bandiera dell'Europa ah però allo stesso tempo creano la bandiera dell'Ucraina ah bellissimo ma ecco qui ci sono i zombie si attivano anche i zombie artisti per per mandare avanti per aiutare il nuovo ordine mondiale e creano l'arte che ci serve per demonizzare il nuovo Hitler e per poi intervenire ovviamente chi interviene è Nazioni Unite quindi Nato e degli zombie anche dall'Italia partiranno e andranno a morire lì per salvare la democrazia e il nuovo ordine mondiale e mentre i zombie vanno a protestare con la museruola perché sono zombie sono già morti intanto qui dietro Putin c'è la l'Aquila con due test che è leggermente massonica ma con chi sto parlando insomma dormiamo ciao rrrrrr ciao ciao